ben tornati sul nostro canale youtube all in one oggi alessandro ci spiegherà come è avvenuto il processo di incastellamento e come funziona un castello si alessandro è andato su alla torre passiamo la linea alla nostra inviata chiara miozzi ciao cristiano ciao federica grazie salve a tutti i nostri spettatori oggi siamo qui a dolevano romano un comune immerso nella cosiddetta campagna romana a 50 chilometri ad est di roma tra i comuni di palestrina subbiaco segni danagni ci dovremo qui per la presenza di una rocca fortificata complesso costruttivo che si trova in tutti i centri storici attorno a dolevano ma anche nel lazio in italia e in europa come risultato del processo di incastellamento allora alessandro se dirci qualcosa di più rispetto a questo processo di incastellamento certo l'incastellamento fu un movimento mediante il quale dall'anno 920 in poi si operò l'accentramento umano in abitati eretti su alture o quantomeno in una posizione sovraelevata e dentro mura di cinta l'incastellamento fu uno dei più profondi cambiamenti sociali avvenuti in europa nel corso del medioevo nel lazio la maggior parte dei castelli venne eretta fra la fine del dodicesimo e l'inizio del quattordicesimo secolo volevano inteso come castello e in base alla documentazione che abbiamo oggi esisteva sicuramente nell'anno 1232 dovete considerare che prima di vedere un castello qui esisteva un abitato rurale fra dodicesimo e tredicesimo secolo lo stato di insicurezza in cui versavano le campagne le frequenti guerre fra roma e tipoli e le manovre militare compiute in zona dall'esercito imperiale del sacro romano impero fecero sì che le popolazioni accettavano di buon grado l'erezione di un nuovo castello che potesse garantire loro protezione dal punto di vista dei lignaggi baronali ossia dei signori avere un castello a poca distanza da roma significava rifugiarci si in caso di pericolo oppure controllare le strade che portavano all'urbe ossia roma e poter difendere lavoratori bestiame e raccolto ad olevano e in tutta la zona circostante era la famiglia di colonna ad amministrare il potere il castello agiva sicuramente come richiamo per le popolazioni vicine che seppure impossibilitate ad abitare entro le mura privilegio dei più ricchi tesero a stabilirsi attorno alla cerchia fortificata solo in un secondo momento la crescita della popolazione portò anche l'abitato esterno alle mura ad essere inglobato in un nuovo giro di fortificazioni come successa ad olevano dove tre porte davano l'accesso al borgo bene alessandro adesso alessandro ci porterà direttamente sul sito della rocca fortificata di olevano romano dove potremmo parlare più approfonditamente di tutto questo andiamo allora finalmente eccoci arrivati davanti la rocca fortificata ale sì siamo ai piedi della rocca fortificata e proprio vicino le mura di cinta che proseguivano tutto attorno al castello e al palazzo da qui vediamo l'ingresso e poi la parabola dove il signore poteva seguire i programmi sky oggi solo parzialmente possiamo distinguere le mura di cinta perché nella maggior parte sono state inglobate negli attuali edifici ti mostro da vicino l'ingresso vieni notiamo uno spioncino che aveva la duplice funzione di vedere chi aveva citofonato e in più da qui si potevano scagliare frecce per difesa il complesso castrenze prevedeva un'ala residenziale detta domus maior o palazium palazzo appunto e qui alle mie spalle abbiamo il primo nucleo costruttivo eretto più o meno negli anni venti del 200 mentre i tre livelli in alto più le scuderie vennero edificate durante il 500 di norma gli edifici erano costruiti con la pietra reperibile sul posto ma non mancava neanche la riutilizzazione di antichi materiali di spoglio ci dirigiamo verso la chiesa buon suor signore buonasera facciamo mini documentario è la strettissima connessione fra potere laico e sistema ecclesiastico spingeva nella maggior parte dei casi il signore ad edificare una piccola chiesa o una cappellina all'interno delle mura di cinta anche ad olevano ne abbiamo un esempio con la chiesa alle nostre spalle la chiesa di santa maria di corte dove per corte si intende il rapporto con il castello e la famiglia proprietaria non è ancora finita qui manca la torre d'avvistamento e il cammino di ronda che adesso ti porta a far vedere andiamo accederemo al terrazzamento tramite una scalinata non originale ricavata col materiale di scarto del restauro di cui ti parlavo poco fa siamo proprio al di sotto della torre d'avvistamento mentre qui dentro avveniva la reclusione dei prigionieri siamo all'apice della rocca fortificata dove per ragioni difensive si operava il continuo monitoraggio del territorio attorno al castello e lo si faceva con una torre d'avvistamento detta maschio o mastio mentre in francia aveva il nome di don john qui ad olevano secondo una mappa del 1660 vi erano due torri una per vigilare il territorio sul versante nord ovest ed è quella ancora esistente ed un'altra per controllare il versante sud orientale da qui si gode di una vista mozzafiato sia per il panorama che per i tramonti cosa che gli ultimi romantici sapranno sicuramente apprezzare adesso ci troviamo di fronte il prospetto nord della torre d'avvistamento ma è da qui che posso descrivervi meglio come avveniva la difesa del castello alle mie spalle più o meno a quattro metri d'altezza ci sono degli elementi in piedra sporgenti a quell'altezza si connetteva la parte sommitale del muro difensivo oggi in pratica distrutto sul bordo interno del muro si impostava un corridoio oppure un camminamento in legno il cammino di ronda appunto lì stavano le sentinelle di guardia e gli uomini pronti con archi e spade queste passerelle che si trovavano all'incirca all'altezza dei merli servivano alle guardie per vigilare continuando a fare il giro delle mura la ronda appunto adesso ci dirigiamo verso l'ultimo elemento che costituisce la rocca fortificata andiamo transennata per ragioni di sicurezza questa era la cisterna per l'approvvigionamento idrico della rocca e di tutti i residenti come oggetto in sé la cisterna è ancora funzionante e si vede perché il serbatoio è colmo d'acqua aveva il fondo concavo per facilitare la rimozione dello sporco e delle impurità mentre l'acqua piovana stessa per entrare nel serbatoio attraversava un filtro di sabbia e ghiaia come avete notato abbiamo sfruttato tutta la nostra giornata a disposizione quindi adesso ti saluto ale grazie se lo diamo anche in sud e ripassiamo la linea ciao vedete ricaccia cristiano grazie chiara eccoci tornati in studio immagini bellissime la rocca ha un fascino veramente particolare ma non è finita qui ci sono ancora molte altre cose bene da scoprire insieme ad alessandro e quindi restate con noi e continuate a seguire all in one posso dire una cosa ho capito ma sono sette ore che siamo qua cioè è buio non si vedono manco più un faccio e noi dobbiamo aspettare loro ma hai capito che sei pagato per stare zitto ho capito ma io ho pure un gatto da sfamare che poi mi ci toccano da me perché mi madre poi non ci va mai a stare zitto grazie a tutti 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 grazie a tutti